Le elezioni presidenziali in Ecuador non hanno ancora un vincitore. Occorreranno almeno 24 ore per sapere se il candidato socialista Lenin Moreno ha vinto al primo turno o ci sarà bisogno del ballottaggio. L'unico dato certo è che il delfino del presidente Rafael Correa è vicino alla soglia del 40% contro il 28,3% del candidato conservatore. Restiamo qui, sapendo che ci potrebbe essere una vittoria al primo turno, attendiamo in maniera democratica e pacifica i risultati della commissione elettorale. Secondo le leggi elettorali di Chito, per passare al primo turno serve una maggioranza di oltre il 40% e un distacco del 10% con il secondo candidato più votato. Voglio dire di non giocare con la volontà del popolo ecuadoriano, non è stata ancora espressa. Se qualcuno ha voglia di scherzare, scenderemo in strada e il governo se ne assumerà la responsabilità. Il rallentamento dello spoglio è dovuto alla contestazione di circa il 5% delle schede. In caso di secondo turno, Moreno potrà contare sul vantaggio di quasi un milione di voti al primo turno, l'asso su sostegno di Cinzia Viteri, la candidata arrivata terza, con il 16% dei voti.